Non ne avete ancora abbastanza? Che ora abbiamo fatto qua? Eh sì, no. Eh? Ah, va bene, va bene, vai. Ancora qualcosina se può fare. Allora, diciamo adesso un brano che è proprio un brano classico della canzone milanese, cioè quando pensi alla canzone milanese non puoi non contemplare questo brano. È un brano, io dico sempre, siccome mi è capitato di vedere un documentario su Streller, secondo me non l'ha scritta lui. Ma non lo so, ma è una cosa che dico io, perché mi è sempre stato strano questa roba qua. Ne abbiamo già parlato. Sì, comunque la musica del grande Fiorenzo Carpi introduce il brano, un brano classico della canzone milanese, ce lo introduce il maestro Sergio Bianchi alla batteria. Fai un'introduzione bella lunga che Max vuole proposte. there direō. Non iscrivetevi. んですci tudo? ... Grazie a tutti. 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 Andrea Parazzoli. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.